buongiorno Rimini giorno 2 allora si confermano i marocchini sono spariti delle spiagge non si è visto uno da ieri incredibile il comune di Rimini ha spazzato via i marocchini allora li capisco è peccato li capisco perché non pagano le tasse tutte queste cose che i negozi pagano è peccato perché c'era un ambiente con questi marocchini sulle spiagge era bellissimo sono rimasti qualche negozio autorizzati è diventata molto più familiare come stazione 15 anni fa più giovani più discoteche più adesso è una stazione familiare con bambini è tutto perfetto allora quest'anno l'acqua pur essendo pulita è un colore marrone bruttino qualcosa che non ti fa sognare non ci sono alghe non c'è niente dentro è pulito ma però il colore bruttino brutto peccato non c'è spiegazione purtroppo non è abbastanza caro qui non c'è spiegazione non c'è spiegazione